Un'altra puntata di Speciale Polifemo, ci troviamo dinnanzi alla cassa circondariale Carmelo Magli di Taranto, c'è qui una rappresentanza di familiari di detenuti, i quali appunto rivendicano il sacrosanto diritto di avere notizie dei propri congiunti, hanno cercato in ogni modo di scrivere, di avere risposte, ma al di là dei contatti previsti in via ordinaria, in questo momento particolare di emergenza coronavirus non ci sono appunto contatti supplettivi. Loro dicono non possiamo incontrare fisicamente i nostri familiari, ma almeno facciamo sì, fate sì che possiamo avere da loro delle risposte circa le condizioni fisiche degli stessi. Mi preme qui proprio dei familiari di detenuti, mi hanno dato appunto il telefonino con un commento da parte di un avvocato che peraltro è stato detenuto, quindi ha avuto un suo vissuto e si rivolge al Ministro Bonafede per denunciare appunto le condizioni davvero incredibili e disumane delle carceri italiane. Ma sul Ministro Bonafede io ho molte riserve, massimo rispetto per la persona, ma lo ritengo politicamente assolutamente incapace, d'altronde di chi stiamo parlando, di uno che faceva il DJ con tutto il rispetto per i DJ e vedere un Ministro, il Bonafede che veniva chiamato in arte come DJ, Fofò DJ, ora fare il Ministro della Giustizia, beh vi posso dire che se mi verrebbe da ridere, ma non rido perché è un momento delicatissimo, per me è politicamente incapace, d'altronde cosa ci si aspetta da un 5 Stelle. È significativo un commento che scrive su Facebook l'avvocato di cui vi ho parlato, Claudio Rocco, caro Ministro, reggo uno stralcio, si metta a tavolino con me davanti ad un caffè, le dimostro cosa significa essere Ministro della Giustizia, facendole una lezione breve in giurisprudenza, in materia di costituzionalità prevista dalla nazione che lei dovrebbe rappresentare ed in materia di ordinamento penitenziario sulla Carta dei diritti e doveri previsti appunto da una Corte europea dei diritti dell'uomo, dove già siete stati puniti. Quindi poi far riferimento al Ministro e quindi di eventuali ipotesi di reato che la condotta del Ministro in materia di mancato rispetto dell'ordinamento carcerario comporterebbe e parla anche dell'ipotesi di, dice lo sa, che farò costituire parte civile le famiglie dei detenuti deceduti, non metterete a tacere nulla. Quindi un riferimento diretto al Ministro Bonafede che per me resta politicamente incapace, l'ex DJ, Fofo DJ, questa è l'Italia come viene rappresentata e amministrata. Questo messaggio, questo commento sui social, su Facebook è molto significativo, ci fa capire come il Ministro non abbia capito nulla della amministrazione della giustizia in tema di ordinamento penitenziario. Abbiamo una familiare di un detenuto che vorrebbe dire qualcosa. Io volevo soltanto dire che quest'anno, violando dei diritti dei detenuti come l'articolo 37 e 39 del codice, che afferma che il detenuto deve comunque avere dall'esterno contatti sia telefonici sia di colloquio. Non possono essere annullati questi contatti con l'esterno perché è una rientregrazione del detenuto. Una rieducazione sociale. Sì, una rieducazione sociale, è un loro diritto che qui sta venendo violato e non è comunque giusto che questo accada perché stanno violando dei diritti dei detenuti. Lecchia, un suo familiare, suo padre? No, mio zio. Per me è come un padre. Certo, certo. D'altronde mi fa piacere, ho saputo che lei studia giurisprudenza ed è una cosa bella perché vuol dire che in una famiglia in cui c'è qualcuno che ha sbagliato, il resto della famiglia vuole rispettare la legge, ma rispettare la legge, la legge la si rispetta fuori, ma la si deve rispettare anche all'interno attraverso la tutela dei detenuti. Le istituzioni che comunque dovrebbero darci l'input per rispettare queste leggi, questi articoli, tutte queste regole, non lo stanno facendo. Non stanno aiutando anche noi che vogliamo comunque avere un contatto, vogliamo dire di stare tranquilli, di non fare rivolte, di non fare nulla, a passare questo messaggio. Quindi non ci mettete in condizioni di fare ciò che hanno fatto tutti gli altri carceri. Noi siamo qui pacificamente per far passare questo messaggio. È importante, noi vogliamo insistere per l'ennesima volta e quindi in questo caso la direttrice del carcere, il ministero dovrebbero comprendere il perfetto senso di civiltà e senso civico che i familiari stanno dimostrando perché dicono noi vogliamo essere, noi siamo le persone più pacifiche di questo mondo, però abbiamo diritto ad avere un cenno di vita da parte di chi è detenuto. Assolutamente sì, infatti dato che questo comunque non sta venendo a svolversi non sappiamo più come fare. Ci hanno cancellato anche le chiamate straordinarie. Infatti noi, come diceva Pocanzi, mia madre, ci hanno cambiato, ci dovevano cambiare i colloqui con le chiamate straordinarie, ma questo non è stato avvenuto. Non per tutti. C'è stata una scremazione, infatti noi siamo stati svegli fino a mezzanotte, ma questo non è accaduto. E noi siamo qui oggi perché vogliamo sapere come sta di tranquillizzarlo, di farlo stare tranquillo, di fargli capire che una rivolta non è buona, che non si conclude niente perché ciò che succede è soltanto che vanno a fare del male a chi è all'interno. Le rivoluzioni non sono altro che fare del male a chi è all'interno del carcere. Lei chiaramente studia giurisprudenza, giusto per stramatizzare, io sono laureato in giurisprudenza, che esame sta preparando? Filosofia del diritto. Benissima, me la ricordo. È giusto per divagare un po' per sorridere, però si rende conto come le belle cose scritte sui libri sono ben diverse dalla realtà nuda e cruda che si vive nelle carceri, per esempio. Sì, sono completamente diverse, anche perché la legge forse viene applicata non con me, ma come la leggono loro e quindi viene anche un po' modificata nel corso. Bene, concludiamo qui questo secondo speciale su questa manifestazione pacifica dei familiari dei detenuti. La definisco in proprio il termine manifestazione perché in effetti non c'è nessun assembramento, lo chiariamo. Si tratta di una decina di persone che stanno stazionando dinanzi al carcere in attesa di eventuali contatti e quant'altro. È tutto. Polifemo sposa la linea della legalità. Legalità vuol dire rispettare la legge, rispettare la legge ovunque, rispettare, come ho detto pochi secondi fa, la legge all'interno del carcere perché i detenuti, ricordiamo, devono pagare il loro debito con la giustizia, ma sono persone, sono esseri umani, non devono assolutamente essere trattati come carne da macello.